Tre persone, tra italiani e stranieri, ritenuti responsabili dei reati di furto in appartamento, ricettazione, truffa e utilizzo di carte di pagamento clonate, sono finite in carcere e una ai domiciliari questa mattina, in seguito a una vasta operazione della Polizia di Stato di Bergamo e della Guardia di Finanza di Brescia. All'operazione, illustrata questa mattina, hanno preso parte 140 agenti e militari e le perquisizioni in provincia di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano sono state oltre 50. Per altre sette persone, inoltre, è stato disposto dal GIP di Bergamo l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L'operazione, condotta congiuntamente tra Polizia di Stato, svolta tra la fine del 2013 e la metà del 2014 e la Guardia di Finanza tra luglio e ottobre del 2014, è scaturita da distinte indagini condotte dalle due forze di Polizia, successivamente confluite in un unico procedimento penale coordinato dallo stesso magistrato. Il gruppo criminale aveva fissato la propria base operativa in un edificio d'antegnate, di proprietà di una società immobiliare poi fallita. L'intero stabile, formato da 36 unità immobiliari, è stato perquisito e sono stati identificati tutti i presenti. In particolare, durante gli accertamenti della squadra mobile, sono stati anche acquisiti elementi di responsabilità che hanno portato a un'associazione a delinquere dedita non solo alla Commissione di Reati contro il Patrimonio, ma anche al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini dei militari del gruppo Tutele Economia del Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia, nell'ambito di un procedimento penale che è stato poi riunito al primo, hanno raccolto prove in merito a plurime condotte di falsificazione di carte carburante, truffa e ricettazione effettuate dallo stesso gruppo, insieme ad altre persone diverse da quelle individuate della polizia.